Quando decidemmo la rosa di nomi che uscirono, uno di noi faceva il biologo, il biologo Marino, lo fa tuttora il biologo Adolfo, propose questo nome Celacanto, un pesce che si riteneva fosse estinto perché è un pesce primordiale, una specie di cernea gigante. Si riteneva che il Celacanto fosse proprio un anello di congiunzione tra gli esseri marini e gli esseri viventi perché aveva appunto queste pinne che somigliavano quasi a degli arti. È un pesce che vive a grandi profondità, ha un metabolismo lentissimo, si evolve lentissimamente. Viva il Celacanto! Il Celacanto è una ex casa cantoniera rimasta in disuso per diversi anni. A un certo punto con i volontari dell'associazione ci siamo accorti di questo spazio, c'era l'erba alta, due metri e oltre, una situazione di assoluto abbandono. L'abbiamo rimessa in sesto, abbiamo chiesto alla provincia di poterla utilizzare. Celacanto l'abbiamo definito un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, stimoliamo la partecipazione dei cittadini e quindi chiaramente attraverso l'ospitalità e l'accoglienza dentro questo spazio, con attività che sono funzionali anche a questo obiettivo, a questo scopo, noi promuoviamo e divulghiamo alcuni principi che a noi stanno a cuore. Questo è il luogo e casa di tutti i cittadini che vogliono fare un'esperienza di crescita. Nel 2012 abbiamo partecipato ad un bando, l'Aviso pubblico a giovani per la valorizzazione dei beni pubblici e quindi abbiamo realizzato questo progetto di valorizzazione di questo immobile proponendo una serie di attività che erano attività di residenze laboratoriali per fare dei laboratori di riuso del legno. Quindi abbiamo ospitato qui dei ragazzi che sono venuti a progettare degli elementi di arredo perché dopo la ristrutturazione noi volevamo arredare la struttura con la partecipazione delle persone che utilizzavano lo spazio. È solo attraverso la cura che ci si responsabilizza rispetto all'uso di un bene. Se volevamo spingere su un'idea di coabitazione, di condivisione dello spazio, dovevamo giustariamente inserire questa azione di recupero e riqualificazione del bene tra gli elementi essenziali di questo percorso. La Galleria della Cittadinanza Attiva era una delle azioni che dopo i laboratori con la realizzazione degli elementi di arredo avremmo realizzato. La Galleria della Cittadinanza Attiva è un'esperienza che dura ancora oggi, è un processo partecipativo all'interno del quale noi vogliamo osservare le dinamiche che intervengono nel ragionamento intorno alla tematica territorio e ambiente insieme ad una serie di attori, 10 partner, principalmente 10 associazioni del territorio, ognuno dei quali ha selezionato una tematica. e quindi abbiamo preso questa tematica ed associato all'associazione partner, un'altra associazione sempre attiva sul territorio, per costruire un racconto di buona pratica da rendere ai ragazzi delle scuole. Noi ospitiamo qui al Celacanto i ragazzi la mattina e le associazioni fanno il racconto delle loro esperienze sostanzialmente. Si mettono in rete tutta una serie di risorse, un po' come se fosse il concetto di rete online, noi lo facciamo invece attraverso un ritorno alle relazioni vere, autentiche. La Galleria si completa con un incontro tematico insieme alla comunità per ragionare appunto sulla tematica scelta. Le persone che circuitano intorno a questo spazio lo fanno perché ci sono una serie di iniziative che sono legate alla sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità ambientale, l'alimentazione consapevole, l'agricoltura senza l'uso di chimica, tutta una serie di temi che sviluppano un filone di economia circolare e solidale in cui qui proviamo appunto a sperimentare delle forme. In estate realizziamo un mercatino a chilometro zero con alcuni dei produttori che fanno parte della rete Salento a chilometro zero. Sono di fatto delle attività che vengono costruite perché a monte secondo noi sono la risposta ideale, come se fosse una politica di prevenzione. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia siamo noi